Ok ragazzi, ciao a tutti, questo video è un video serio, quindi ti chiedo se lo stai guardando di guardarlo davvero fino alla fine, tanto il video non dura tanto e dico cose molto importanti. Allora, sono appena tornato dalle vacanze, ma questo ve lo potete immaginare appunto se sono qui a fare questo video. Il titolo, come vedete, è Chiudo il canale, punto di domanda, parliamone. Perché? Perché io vi dico, ho un canale, tra virgolette, serio, che lascerò il link in descrizione se ancora non lo conoscete, che si chiamerebbe Samuele Toresani, che sarebbe appunto il mio nome e cognome. E li carico video davvero ben montati, ben strutturati, insomma, fatti bene, a cui tengo, e per me hanno un valore. E sono sincero, io ho due canali così, non riesco a gestirli in una maniera bella, nel senso che non potete dirmi Samu, metti un video al giorno di Minecraft e portare avanti quel canale là, perché è una cosa comunque impossibile. Quindi, vi dico, cosa ne pensate, se avete dei consigli appunto da darmi, cosa posso fare, perché io se devo scegliere tra i due canali, io scelgo l'altro appunto, perché comunque sono video che parlano di me, e sinceramente preferisco un pubblico che apprezzi quello che faccio, quello che sono, che magari un gioco in particolare basta. E quindi nulla, ditemi nei commenti, li leggerò tutti, 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 risponderò a tutti, 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 quindi sbizzaritevi nei commenti. Bella ragazza!